ben trovati ben trovate in questo nuovo video teoria oggi parliamo dei possibili futuri power up di zoro ciò che potrebbe riguardare lui infatti se riprendiamo per un attimo il suo scontro con king arber e ciò che avviene subito dopo possiamo rinvenire alcuni punti molto interessanti che potrebbero farci pensare a qualcosa di nuovo veramente molto bello vi ricordo innanzitutto di iscrivervi partiamo ovviamente il focus sarà sull'ecocuto cioè spade nere e l'agri della percezione che vi spiegheremo sulla fine del video allora ripercorriamo velocemente ciò che zoro ha fatto e vari step a cui abbiamo assistito ha ottenuto la emma in cambio della shizui per far sì che potesse migliorare i suoi agri dell'armatura durante lo scontro con king abbiamo assistito a vari flashback su kozaburo su tenguyama su iponomatsu e così via questo ci ha fatto immergere nella sceneggiatura nel background di zoro nella filosofia della spada nei suoi ricordi nel suo legame con la storia riuma ushimaru la verità dei samurai e degli spadaccini nel flashback si parla delle tre spade la sandai di cui parlano i tetsu tenguyama e ponomatsu poi della wadi shimonji che è collegata ovviamente alla promessa di zoro ma è collegata anche alla emma entrambe forgiate da kozaburo lì c'è quel viaggio introspettivo incredibile di zoro con il vecchio kozaburo l'uomo che la forgiò la emma li vediamo zoro da piccolo gli vengono regalate delle spade vere il vecchio gli parla della storia dei parallelismi con keshini che si spregano keshini samurai vagabondo che quando parlò col foggiatore all'epoca gli venne detto che lo strumento per togliere la vita appunto e la spada che sono state create per uccidere purtroppo le persone vi ricordo ovviamente il legame fra oda e watsuki importante anche il dialogo incredibile di altri manga ogni spada ha la sua personalità che lo spadaccino deve imparare a fare sua a domare e a superarlo questo però lo dice kozaburo e aggiunge che le spade madrette non esistono ma ci sono solamente spade famose e spadaccini deboli che le temono e lì c'è l'illuminazione di zoro che capisce che l'unico modo che deve fare deve domare quella spada seria quella spada eccellente quella meito e solo in quel caso sarà riconosciuto dalla emma la spada del re degli inferi e qui c'è una notazione a borsor come dice caverna berserk cosa dice gatsu che la spada è utile solo se impugnata dal suo padrone la spada si muove ma è come se si muovesse il corpo dello spadaccino a lui basta avere la sua spada con lui e niente più perché la cosa più fedele e la spada è la prova stessa della sua esistenza madonna che grandissimi spadaccini che grandissimi richiami che ho da fare tornando a guampisi se vi ricordate c'era la emma lì inchiodata zoro la riprese la recuperò capì cosa doveva fare doveva sprigionare tutto il suo potere tutta la sua energia tutto il suo aghi dell'armatura ma anche del re fulmini neri come se piovesse e lì c'è un altro richiamo a dare la grande avventura quella spada incredibile che si poteva estrarre solo se in quel momento la volontà dello spadaccino era appunto pronta a poter combattere se vi ricordate se passiamo a quella che la volontà degli spadaccini il comportamento delle spade c'è la famosissima frase di riuma dopo lo scontro con zoro ovviamente lo zombie di riuma se sarai tu il prossimo padrone della shusui lo sarà anche la sua volontà ragazzi la sua volontà e ricordiamoci ovviamente che zoro poi è diventato si è autoproclamato il re degli inferi questa è una cosa veramente incredibile che poi alla fine del video categorie vi spiegherà perché anche lì che si fa collegare quello che noi pensiamo essere il suo futuro power up ovviamente il paragone con relli si spregano ma non è questo il caso di appurare tale fatti specie dopo quello scontro c'è una cosa incredibile e che da cui lo dicemmo all'epoca molti erano scettici quella che zoro vede vuoi per la medicina vuoi per la stanchezza vuoi per le ferite vuoi per l'energia infusa con gli achi con la m per la questione degli inferi e tutti i poteri sviluppati era veramente la morte forse gli inferi erano venuti a reclamare zoro ovviamente così non è stato ed è importante perché quella figura oltre a esserci appunto nuovamente lo ripeto in bors work perché c'è the death la morte era lì per altri motivi secondo noi infatti la figura del tristo meritore nelle varie lingue nelle varie religioni greca romana e così via nelle varie mitologie hindu ebraismo cristianesimo poi arriviamo in quella diciamo giapponese e quindi ci collochiamo all'interno di quella che è tutta la fattispecie storica di oda diventa differente perché si può anche rinvenire nella impersonificazione della enma il re degli inferi lo conoscete sicuramente in dragon ball ade ma anche soprattutto nel yu yu akushu yu degli spettri incredibile chi è che non ricorda il piccolo emma signori incredibile e c'è anche il rimando agli shinigami in quel caso non possiamo non menzionare bleach ovviamente non ci dimentichiamo di yogoro e kawamatsu che parlano di zoro mentre combatte co king per la questione di ushimaru di ruma e della shusui inoltre vi voglio ricordare una cosa questa sera importante sul volume 102 di one piece che quindi come sapete le copertine sono colorate c'è zoro con le spade a frango ci sono sangio eccetera eccetera e le fiamme oltre a quelle delle raghi del re che sono neri ci sono delle fiamme verdi un colore che richiama gli inferi solo questo vi volevo dire adesso ovviamente passiamo al power up di zoro che sarà qualcosa di magnifico secondo noi ovviamente e adesso proviamo ad analizzare ed ipotizzare i possibili power up per zoro vorremmo soffermarci su due questioni possibili la questione cocuto e la questione anche della percezione tali power up hanno una doppia valenza sia dal punto di vista della potenza e della caratterizzazione del personaggio sia dal punto di vista meramente narrativo e di scenografia iniziamo con la questione cocuto zoro dovrà sicuramente riuscire ad annerire le sue catane per poter realizzare il suo sogno di diventare il più grande spadaccino del mondo ovviamente per il processo di annerimento ci siamo già espressi più volte infatti ciò dovrebbe avvenire dopo molte battaglie sia grazie all'infusione dell'achi nella spada sia per merito dell'utilizzo dell'achi del re nei colpi e anche grazie all'unione della volontà della spada e dello spadaccino se ricordate tenguyama e tetsu disse che zoro poteva riuscire nel processo di annerimento della emma cosa in cui odeno non riuscì tale impresa renderebbe innanzitutto le lame delle catane molto più forti e resistenti e sicuramente dopo la spiegazione che abbiamo dato sulla filosofia delle spade sulla volontà che un grande spadaccino e samurai deve avere il culmine ultimo dell'abilità di zoro non può prescindere dall'annerimento perennere le spade infatti avere le spade nere vuol dire anche tanto altro mi walk ad oggi è l'unico in vita ad avere una kokuto considerando che la shusui apparteneva a riuma molti secoli fa infatti molto probabilmente zoro nel momento in cui affronterà mi walk dovrà possedere anche lui delle kokuto ciò fa parte ovviamente di una motivazione narrativa detto questo passiamo alla questione a chi della percezione analizzando le caratteristiche di zoro come guerriero possiamo notare che si tratta di un guerriero molto forte e abbastanza completo basta ricordare tutto quello che ha fatto a wano e la unica scima nei vari scontri innanzitutto zoro possiede un'aki dell'armatura di ottimo livello con cui riveste le sue spade proprio in merito al flusso di aki è riuscito a domare e gestire la leggendaria spada emma durante l'incredibile scontro con king la prima calamità di kaido nonché lunariano con una taglia di un miliardo e 390 milioni zoro è riuscito non solo a sbloccare l'aki del re ma addirittura ad infonderlo nei colpi come rufi ricordiamo che kaido disse che solo una manciata di persone al mondo possono riuscire in tale impresa i più forti tutti questi elementi rendono zoro un personaggio di primo piano nel mondo di one piece e proprio per tale motivo secondo il nostro punto di vista per far sì che zoro diventi un personaggio ancora più completo e temibile c'è bisogno di un ulteriore sviluppo dell'aki della percezione tale power up sarebbe necessario per due ordini di motivi e scontri considerando le probabili sfide con shiryu e miok non possiamo non pensare ad uno sviluppo maggiore di tale aki uno per il possibile scontro con shiryu della pioggia soprattutto adesso che possiede il frutto dell'invisibilità di absalom una percezione sviluppata quindi sarebbe determinante due per lo scontro finale di zoro con miok visto che tra le caratteristiche principali di quest'ultimo personaggio dovrebbe rientrare l'aki della percezione ai massimi livelli in stile katakuri future fight è importante ricordare che oda disse che il soprannome di miok doveva essere il chiaroveggente oltre che occhi di falco un ulteriore e finale dell'elemento è quello che in merito alla questione della visione della morte di zoro l'abbiamo visto vessare in uno stato di incoscienza per ben sette giorni qualcosa in più e non di meno e da questo punto di vista noi crediamo che potrebbe aver sbloccato una percezione che gli permetta di sentire la presenza cioè l'animo anche negli oggetti oltre che negli esseri viventi forse una capacità sbloccata nel sentire le anime anche degli inferi lo sappiamo sembra strano ma ogni personaggio sviluppa un'acchia della percezione a seconda delle proprie peculiarità e proprie caratteristiche e zoro sia appunto autodefinito il re degli inferi il re dell'inferno come la sua emma ovviamente c'era anche quella piccola parentesi contro mister one quando zoro sentiva il respiro delle spade eccetera eccetera ma detto questo il video è finito hashtag zoro anche della percezione venite a raccolta chiamate tutti anche gli sfogliatori non fa niente vanno bene tutti 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 dovete venire qui e anche tutte 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 dovete venire qui mettere like commentare il video e dire la vostra zoro svilupperà questa che la percezione inimmaginabile sì o no di delocene con me ovviamente sì ovviamente sì ovviamente sì dovete dire sì però ovviamente noi saremo qui per leggere tutti voi soprattutto per quanto concerne l'ecocuto l'ecocuto mettete like iscrivetevi attivate la campanella e passate tutti gli altri social un bacione soprattutto agli sfogliatori soprattutto a voi vi voglio bene